Oh cavolo, cavolo, arriva qualcuno, vediamo chi è. Cosa è stato? Jess, ehi! Jessica, siamo qui! Vi piace farlo in posti strani, per caso? Siamo rimasti chiusi dentro. Potresti farci uscire, per favore? Oh mio Dio, me la sono vista brutta, altri dieci minuti là dentro e avrei iniziato a mangiarmi una gamba. Oh, che schifo, Chris. Guarda, io ho un sacco di carne addosso, questi qui sono tutti muscoli. Sì, certo. Ehi! Chris! Faccio come mi ha insegnato Sam, considero gli affari personali degli altri come i miei giocattoli personali. Non fare lo stronzo. Accidenti! Sembra che qualcuna abbia una cotta per il nostro caro amico, nonché capoclasse, Michael Monroe. Chris, cavolo! Mi chiedo che razza di fantasia erotica può avere la nostra Jessica, eh? Chissà! Mike e Emma hanno rotto, ora vi sta con me. Wow, raggedia. Non direi, tutto facile, fuori Emma, dentro io. Va bene, va bene, vediamo di salire alla baita, ne ho abbastanza di tutta questa natura. Voi andate avanti, io resto qui ancora un po', a vedere se arriva qualcuno. Mi intendi, Mike? Cosa? Eh, ma no, dicevo, chiunque. Ah, Sam? Visto che panorama, voglio dire, cavolo! A volte mi scordo di fermarmi a mirare queste cose. Ehi, ma non potevano costruire la baita accanto alla funzione d'arrivo della funidista? Sì, ma non potevano costruire la funzione d'arrivo della funzione d'arrivo della funzione. Sì, ma non potevano costruire la funzione d'arrivo della funzione d'arrivo della funzione. Noi brividi? Ci siamo quasi. No, voglio dire, mi sento a disagio. Oh, capito. Sarà strano ritrovarci di nuovo tutti quassù. Di sicuro non sarà una normale scampagnata. Voglio dire, cosa pensi che... Cazzo! Michael! Davvero? Avreste dovuto vedere le vostre facce. Cazzo, mi viene da prenderti a pugno. Non male. Mike, sei un idiota. Dai, ragazzi, siamo amici o cosa? Niente violenza, dobbiamo solo divertirci. Siamo in una foresta, è paurosa. Su, entriamo nello spirito della situazione. Lo spirito della situazione? Sei scemo o cosa? Cerco solo di sdrammatizzare, ehm? Non fare così. Così come? Così, come fai tu. Alla fine fai sempre così. Michael, lasciamo perdere, altrimenti questo weekend diventerà uno schifo generale. La situazione è strana e lo sappiamo tutti. Facciamo pace con questo concetto e andiamo avanti, ok? Matt! Ho capito. Sì, non peggioriamo le cose. Bene. A posto? A posto. Adesso vi bacerete pure? Oddio, sì. Adesso ci baceremo con la lingua e... No, meglio che vada a dare un'occhiata alla funivia. Ok, ci vediamo. A dopo. Bene. A dopo. Ah, merda. Cosa? Puoi portarli per il resto della strada? I bagagli? Sì. Tutti quanti. Ah, perché? Devo andare da Sam. Ok. Scusa, è che devo proprio parlarle. Mi sono ricordata di una cosa che devo dirle prima che arriviamo lassù. Ma non puoi aspettare. Ci siamo quasi. È importante. Matt, ti prego. Emma, sinceramente non penso che dovresti scendere da sola per il sentiero. E perché mai? Fa freddo e sta diventando buio e... Hai intenzione di proteggermi dal buio? Lasceremo la roba qui e verrò con te. Non ce la roba nessuno. Matt, mi prendi in giro. Non puoi lasciarmi sola neanche per cinque minuti? Non ti fidi di me? Ma non è per quello. Perché non mi ascolti? Devi sempre controbattere su tutto quello che dico. Scusami, Emma, volevo solo essere gentile. Se vuoi essere gentile, vedi di portare tutto quanto alla baita più in fretta che puoi, ok? Ok. Va bene, come vuoi. Grazie. Ci vediamo su dopo che ho trovato Sam. A proposito. Oh, hey. Qualcuno sta diventando amichevole. Un po' troppo amichevole, forse. Non si dice ogni lasciata è persa? Oddio! Ehi! Oh! Ehi, wow! Scusami. Ash, non ti volevo spaventare. Mamma mia, Matt! Volevo spaventarti, ma spaventarti poco, non per davvero. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Ehi, wow! Mi dispiace, Ash, davvero. Ok, sto bene, sto bene. Che guardavi? Qualcosa di interessante? Ah, eh. Fammi guardare. No, non si vede molto. Non c'è proprio niente di interessante. Cosa? Solo... Ma dai! Scommetto che riuscirò a vedere un orso che si pappa una volpe. No, guarda, Matt, non rovinarti la vista. A me sta già venendo il mal di testa. A me sta già venendo il mal di testa. A me sta già venendo il mal di testa. Come vuole. Come vuole. Come vuole. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andiamo. Ehi, Mike! Ok, mi hai fregato. Va bene, ok. Non puoi nasconderti, Michael. Conosco tutti i tuoi gruppi. It's gonna stop you if you won't let go. Ti troverò, Jess. E poi? Basta! Eh no, tesoro, ancora, finché non cadrai. Ecco, finito, tutto fatto. Allora sono caduta? Eh, non direi. Beh, nel caso lo sapresti. Va bene, va bene. Ehi, sbaglio o ti stai dichiarando sconfitto? Sei una degna avversaria, Jessica, regina delle palle. Ok, è un titolo un po' ambigua. Mia signora. Wow, tienine un po' per dopo, tesoro. Non resto mai senza. Saliamo alla baita. Già, anche se qui è così bello. È un posto fantastico. Già, potrei anche restare qui per sempre, a patto che ci sia anche tu, per dei baci infiniti. Soltanto baci? Beh, più o meno. Beh, mi sa che finiremo per morire congelati fra quel più e quel meno. Già. Ci si rivede. Come ci sentiamo? Durante la nostra ultima seduta abbiamo stabilito che hai timore delle cose che sono morte o non morte. Questa volta cercheremo di comprendere le radici della tua ansia. Prendi il libro e sfoglia le pagine. Vedrai una serie di foto e di simboli. Voglio che identifichi quale immagine di ogni serie ti mette più ansia. Grazie. 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 Ah. Hai avuto paura? Mi spiace. Stai andando molto bene. Non preoccuparti. Cerca di velocizzarti. Più ti affidi ai tuoi istinti, più oneste saranno le tue risposte e più istruttiva risulterà questa esperienza. Molto interessante. Grazie per aver risposto con diligenza. Ratti? Zombie? Viscere? Che combinazione ha l'aria di un allegro venerdì sera. Ah. Ancora una volta. Temo che il tempo sia finito, ma ne riparleremo presto. Non pensate che sia uno scherzo un po' crudele? Andiamo. Se lo metto. Anna! Che succede? Dove va mia sorella? Era solo uno scherzo, Anna. Per prima cosa voglio dire che sono super contento di dare il benvenuto ai miei amici all'annuale vacanza invernale a Blackwood. Quello che voglio fare è passare del tempo con tutti voi. voglio condividere... ...e dei momenti che non scorderemo mai. Anche in ricordo delle mie sorelle. Devo andare da Sam. Oh, ehi. Qualcuno sta diventato amminevole. E così sono finito dietro. Ero accanto a Josh e così ci siamo incontrati. Boom. Effetto farfalla. Questa montagna sembra più grande ogni volta che ci salgo. Davvero? Ha lo stesso effetto anche a me. Dai, tu sei cresciuto qui. Semmai ti sembra più piccola. Sì, forse hai ragione. Quando monterete qualche ripetitore per cellulari? Sono in astinenza. Se hai un milioncino che ti avanza, possiamo farlo subito. Ora che me lo dici, l'ho lasciato nell'altro giubbotto. Ehi ragazzi, tutto bene la salita? Un fattorino ci avrebbe fatto comodo, ma... ...non si può avere tutto. Sì, tutto bene. Anche se è strano, cioè... ...è strano ritrovarsi qui. Ehi, ehi, ehi. Allora, ci diamo da fare qui o cosa? Certo. Quindi Matt e Emily stanno insieme, giusto? Beh, così pare. E cosa ne pensa Mike? Credo che Mike abbia già parecchia roba per le mani. Capisci? Dannata serratura del cazzo. Ghiacciata? Ovviamente. Ci sarà un altro ingresso. Ci sono mille ingressi, ma sono tutti chiusi. Deve esserci una finestra che possiamo aprire. Qualcosa del genere. Aspetta, vuoi fare un'effrazione? Dubito si possa parlare di effrazione a casa tua, no? Non se non sporco denuncia. Vai strada, capo! Ciao, Chris. Allora, come stai? Bene, però... Ho un po' freddo. Mi raggomitolerei volentieri davanti al fuoco. Già, sarebbe piacevole. Già, sarebbe un po' freddo. E' una ragazza fantastica, sai? Sarebbe bello che si togliesse quel parca di dosso. Sarebbe un vero spettacolo. Sì. Decisamente. Quando hai intenzione di provarci con lei sul serio... Sì, la fai facile proprio. Dai, su. Praticamente, già adesso passa tutto il suo tempo con te. Beh, sì, ma siamo solo amici. Senti, amico, dai un'occhiata. Guarda queste splendide montagne. Vedi qualche genitore? No. Voglio dire, riesci anche solo a immaginare uno scenario migliore, qualcosa di più incredibilmente erotico? Tu e Ashley finalmente soli. Hai preparato tutto a dovere. Sei stato il perfetto gentiluomo. Ora metti a segno il colpo. Forse hai ragione. Sei un cacciatore, bello. Niente paura, nessuna pietà. Non devi lasciarle via di scampo. Va bene, ho capito. Ho capito. Allora, qual è la tua idea per entrare nella baita dei miei? Ehi, mica ho detto di avere un'idea. Sembrava che ne avessi una. Non mi deludere, capo, addirittura. Quattro deliziose signorine si congenerano in culipretti per causa tua. E questo non è esattamente il miglior modo per combinarci qualcosa. Ben detto, a nessuno piacciono i culipretti. Cazzo, la batteria si sta scaricando. Ho dovuto disattivare il GPS. Proprio ora che sono all'aperto, dove potrebbe servirmi. La piante di parlare del telefono. E cosa, perché? Perché parli solo di quello. Beh, sai, ci puoi fare un sacco di cose, l'hai? Un'app per farci entrare nella baita? No. E un'app per portarti a letto qualcuna? A dire il vero, c'è questo. No, la risposta è che non ce l'hai. Bene, 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 abbiamo un pensatore. Buona idea. Buona idea. Buona idea. Dovevo impegnarmi di più ai corsi d'arrampicata. Intendi ginnastica? Sì, l'arrampicata sulla corda. Oh. Sono stato io. No, no, non credo. Tieni, usa questo. Oh, Chris, ho avuto una grande idea. Sì. Sicuro? E sarebbe? Ok, allora, sono quasi sicuro che ci sia del deodorante in uno dei bagni. Potresti usare quello con l'accendino. No, non ti seguo. A chi ci serve uno stick di deodorante? È spray, una bomboletta. Oh, sì, ora capisco. Lancia fiamme. Proprio come facevamo coi soldatini. Sì, li fondevamo. Basta puntare lo spray contro l'accendino e... Ciao, ciao, serratura ghiacciata. Bingo. Bene, pensaci tu. Io devo andare a fare una cosa. Te la senti di cercare al buio per un po'? No, ma lo farò. Buona fortuna, ragazzo. Buona fortuna, ragazzo. Buona fortuna, ragazzo. Buona fortuna, ragazzo. Bello. Che cazzo era? Ciao, Chris. Molto divertente. Come hai capito, che eroi? Tu non dovresti pensare a sbloccare la serratura? Ok. 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 Oh mio dio. Ma che schifo. Stai cercando di ingoiarlo in una faccia? Eh. Andiamo. Non potrebbe essere più discreta? Tanto nessuno vuole la tua roba, tesoro. Scusa, hai detto qualcosa? Oh, forse il tuo troieggio era troppo rumoroso. Sembra che a qualcuna bruci essere stata scartata Già, per te, come al mercato del vestiame, sei una vacca di prima scelta Ti brucia proprio chiamare vacca a miso homecoming Eh, ma andiamo Stai zitto, Matt Stanne fuori, idiota Ehi, attenta Oh, sono tu Vuoi metterlo a taceri adesso? Nessuno può usare i tuoi giocattoli Sei proprio una stronza Vabbè, non me ne frega un cazzo di quello che pensa Almeno io penso, media del nove Stronza, ricordati di me quando darei via al culo per lavorare Chi ha bisogno di studiare quando si hanno a disposizione tutte queste doti naturali? Ti prego Non compreresti neanche un panino a muffito con quel culo secco? Dici sul serio? Credi che sia un insulto? Questa stronza è fatta, o quasi? Jessica, vedi di tapparti la bocca, ok? No, sei tu quello che non deve ficcare il naso negli affari degli altri Adesso ti faccio vedere io cosa ti ficco, stronza Oh, vuoi una rissa? Bene, perché io non vedo l'ora Basta! Non è per questo che siamo venuti qui Questo non ci aiuta, non è quello che volevo Se non riusciamo ad andare d'accordo per dieci minuti Forse ci serve un attimo di stacco Mike, perché non vai a vedere il capanno, quello di cui ti ho parlato? Sì, sì, ok Ti va di andarci? Sì, ma senza quella bruttana È proprio lungo il sentiero È finita Già Allora Josh, accendiamo il fuoco? Dov'è la borsa? Eh? La mia borsa, quella piccola con i disegni rosa Quella che ho preso da rodeo Matt, mi stai ascoltando? Oh mio Dio, non ti ricordi? Accanto al negozio di scarpe italiane dove ho preso l'estiletto E tu hai fatto cadere quell'espositore mentre sbavavi dietro alla cassiera Cioè, mi stava chiedendo del giubbotto di pelle che indossavo? Certo, le importava proprio del tuo giubbotto d'alta moda Perché odi il mio giubbotto? Matt, mi serve la borsa Oh mio Dio, forse te la sei dimenticata Pensi che io dimenticherei la borsa? Beh Allora? Direi di no L'avrai lasciata giù alla stazione della funivia Dai, tesoro Torniamo subito E poi potremo scaldarci? Sì, potremo scaldarci Ok Ok, andiamo Ok, andrò a farmi un bagno Ah, scacciati Approfittiamone Per me va bene Quanto è lontano questo capanno, comunque Questo capanno è il nido d'amore più caldo e romantico che tu possa immaginare Se ci arriveremo Oh, mi sento abbastanza fortunato Gioca bene le tue carte e potrebbe anche essere... Ehi, porno divi! Mi servono queste Porno divi? Pagherei per vedervi Che schifo Scusate se vi ho buttati fuori così No problem Oh, sono certo che troverete un modo per passare il tempo Tu divertiti con quegli sfigati Oh, quasi scordavo Bisogna accendere il generatore, altrimenti non vedrete niente Ormai è buio Ok, capito Mi sa che Josh stava flirtando con me Ok, gli chiedo di unirsi a noi Sei serio? Cosa? No Ehi, tesoro Foto? Sì, ci stavo pensando Ok Oh mio Dio Veramente perfetti Siamo tipo la coppia perfetta Cavolo Sembri una modella Tieni il telefono a portata di mano Magari riesci a farmi il book Nel capanno Ok Ci sto Beh, ci sono io per questo E come pensi di farlo? Ah, un paio di idee L'hanno un po' abbandonato questo posto, eh? Che peccato Emily è davvero stupida se pensa di riuscire a rovinare il rapporto che c'è tra noi Se saremo fortunati Se saremo fortunati ci seguirà fin qui e sarà divorata da un orso Tu le tiri fuori il peggio Può essere Gelosia epica Cazzate Cazzate Mike Mike Non è che potresti sbrigarti con questo cavolo di Jenny? Cos'è il Jenny? Ok Vediamo Boom Per colpo, Mikey Wow, sei un mago? Non è che potresti sbrigarti con questo? No Non è che potresti sbrigarti con questo che c'è la tua Non male, vero? Sì, davvero, è stupendo Oh sì, ho un sacco di successi Sei emozionato? Perché a vederti non sembra Adesso sono proprio su di giri La nostra è come un'avventura con un po' di sesso Per Anna e Beth Pensavo avessero ripetuto Beh, non hanno mai chiuso l'indagine Ok, adesso hai brevi di È così strano Ricordo appena cos'è successo Beh, quello che io ricordo è che abbiamo fatto uno Scherzo del cavolo che alla fine è costato la vita ad Anna e Beth Ehi, dai Non è colpa nostra se sono Corse nel bosco Già Chi si aspettava da loro un'idiozia come quella? Ah, hai sentito? Ho sentito qualcosa Sì Cazzo Non so se arriveremo al capanno con il sentiero bloccato così No, non ho nessuna intenzione di tornare alla baita per vermi una cioccolata calda insieme a... Jess! Cazzo! Ehi, Jessica! Sì? Ehi Sto bene Porca troia, mi hai preso un colpo Credi che io mi sia divertita? Ah... Non ti sei fatta male, vero? Che io sappia, ho ancora tutti e sette i miei arti Bene Vuoi uscire? Ah... Non lo so Qui sotto non vedo quasi niente Ok, vengo io da te Stai ferma Ehi, tesoro Mi aiuteresti a spostare il carallo? Bene Dammi una mano a spostarlo, dai Non era così che ci immaginavo A sudare insieme Ah, porca troia Oh, santo cielo Stai bene? Sì 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 Sto bene Porca miseria Questo posto mi fa venire i brividi Ma non quelli piacevoli Posso offrirti un po' di sostegno e di sicurezza? Conservali per dopo, postacchiere Ci perppo rischio Stovedi un po' di sostegno Sì. Stai bene? Sì, per un pelo. C'è qualcosa di strano in questo posto. Sì, meglio se ce ne andiamo. Pessimo. Strano posto. Dover fumarsi un sigaro? È recente. Chissà chi è stato qui. Wow. Questo posto... Sembra antico. Porca caverna. Deve essere roba dei nativi americani. Non credo che i minatori passassero il tempo a disegnare, no? No, no. Sembra più una specie di altare. Un altare a cosa? Merda. Questo posto ha bisogno di una sistemata. Finalmente! Un barlone di speranza. MarlenePHe e V restroom. Spirazione. 120 confirmed casi di muro che. Corrahssero ilukan... Es Laurenzo è erano... Innanzitutto. Crivello lo stesso. Segui... ... bene bene quando Josh ha parlato di capanno speravo qualcosa di meglio vedrai la camera da letto oh hai in programma qualcosa per quella stanza ti farò conoscere ogni anno va bene va bene ora non fare troppo il gravato oh un binocolo voglio guardare gli alberi voglio guardare le nuvole voglio guardare il capanno wow stai bene? ho visto qualcuno al capanno ok fammi guardare non è che per caso hai bevuto tesoro ci siamo solo noi qui forse hey Jess non allontanarti perché? è che qui dice che da queste parti ci sono degli orsi bruni oh Michael ho un'idea geniale cioè? abbracciamo un orso dai per favore dai meglio evitare di abbracciare gli orsi ok ecco ok ok Grazie a tutti Attento scemotto Stavo solo rispondendo al suo richiamo Wow, che ragazzo facile Sì, ho molto amore da dare Avevo paura Porca troia, Josh Non potevi almeno sistemare il sentiero Prima di spedirci qui Davvero? Eh? Non mi sembravi un tipo da bicchiere mezzo vuoto Hai idee migliori? Stai indietro, pessimista Oh, buh, sbruffona Ehi, Mike Hai qualcosa sulla faccia? Boom! Ok, ok Se le cose stanno così Jess? No! Jess? Jess? SEMMI! Sì? Mi aiuti ad accendere il fuoco? Eh, beh Stavo entrando in vasca Oh Non è che per caso ti serve una mano? No, grazie Andiamo Bene, Josh Vediamo se sai come far arrivare l'acqua calda Nella tua grande e bella baita Wow Ma che cosa è stato? Le cose di Anna Le cose di Anna Accidenti, Anna È ricotta, eh? Robrio non riusciva a togliersi della testa Mike? Robrio non riusciva a togliere Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Una cosa? Wow, hai una tavola spiritica. Quelle cose sono finte, dai. Non fanno niente. No, ti sbagli. La usavamo spesso io e... Ehi, Josh, il fatto che non ci sia acqua calda mi pare un bel problema. Sì, lo so, bisogna accendere la caldaia. È nel seminterrato. Voi piuttosto vedete di trovare la tavola spiritica. Chris, cerchiamola. Vai, sarà come una caccia al tesoro. Ok. Va bene. Grande. Non ve ne pentirete. Ti va di fare un giro? Ciao. 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 Per me è molto importante che siate tornati tutti quest'anno e che sia tornata tu, Sam. Josh, siamo qui per te. Se ti serve qualcosa, davvero, noi tutti ce la faremo. Insieme. Ah, voglio solo che ci divertiamo, ecco. Attenta al gradino. Credo di essere in grado di scendere una vecchia scala. Scusami tanto se ti ho portato qui sotto. Portami un po' d'acqua calda così saremo pari. Voglio dire, non saresti mai scesa qua sotto da sola, vero? Beh, qui... è abbastanza inquietante. Già? Meglio non venirci da soli. Che ci fa qui questa? È tua? Certo che sì, la usavo per giocarci con mio padre. Logicamente, prima che non avesse più tempo da dedicarmi. Ah, beh, lasciamo stare per ora. Ok, vediamo cosa possiamo fare con questo vecchio boiler. Scusa, poi... me la puoi tenere? Cos'era? Cos'era cosa? Fammi... luce qui, così vedo cosa faccio. Ehi, tieni ferma la luce. Così ci vedo, ok? Non male. Ok, andiamo... Con ordine. Bisogna aumentare la pressione dell'acqua prima di accendere il boiler. Mmm, sembra complicato. No, in realtà è semplice. Ah, cazzo. Va bene, tu prova ancora. Calmati. Non è difficile. Basta premere il pulsante quando vedi la luce. Ok, ok, ok. Stavolta ce la faccio. Certo. Sì, sì, che va meglio. Bene. Batti il cinque. Sì. Sì. Ma cos'è? Potrebbe essere un sacco di cose. Tutte spiace. Ehi, falla finita. Sto solo facendo ciosci. Eri davvero spaventata. Non avevo paura. No, no, hai fatto un salto solo perché ti andava di fare ginnastica. Non fare lo stronzo, ok? Non ho fatto nessun salto. Ho solo chiesto che cosa fosse. Mi pare una reazione normale quando senti uno strano suono in un bizzarro semi-interrato. Ok, lo senti anche tu, vero? Josh. Cosa? Il ritmo è... regolare, strano. No, non ci sento nulla di regolare. Andrò a controllare. Cosa? Perché? Che ti frega, fifone? No, forse... Forse c'è... C'è qualcosa. Perché non difendi il fortino mentre io controllo? Come desidera, madame. Andiamo perché queste porte sono chiuse! Per tenere fuori gli estranei! Ehi! Cosa? Ehi! Ma che diavolo! Boom! Ci siete cascati. Cosa? Bello! Davvero bello, bello. Ma... Perché hai fatto una cosa simile? Qua sotto è pieno di attrezzi di scena. Come avrei potuto non sfruttare l'occasione? Dici... Dici sul serio! E tu ne eri al corrente? No, però è stato bello. Davvero, roba forte. E va bene. Ammetto che il tuo scherzetto idiota forse era un po' divertente. Maestro dello scherzo. Non ho detto niente del genere. Ho detto che il tuo scherzo è idiota. Cazzo, se avevi paura. Ammettilo. Non è vero! Andiamo, te la sei fatta sopra. Josh! Ma che... Che... Volo hai addosso? Ho trovato la mia vocazione. Ti prego, dimmi che farai il voto del silenzio. Ok, ok. Almeno hai trovato quello che cercavamo. Ecco il nostro biglietto per il regno del bichetto. Sapete, no, no, no. Ho già avuto spaventi a sufficienza per stasera. Adesso ho solo voglia di un bel bagno caldo. Buon divertimento. Oh, ma occhio a Josh. È un cospiratore. Ok. Pronto, Matt? Vuoi venire con me a prendere la borsa? Sì, arrivo. Ciao. 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 Grazie mille, sir. Ehi, Em. Sì? Posso chiederti una cosa? Su, Sam. Cosa? Però non arrabbiarti. Matt. Pensavo che, sai, in futuro se qualcuno cercherà di farti incazzare forse potresti semplicemente lasciar perdere. Cosa vorresti dire? Ora è colpa mia? No, 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 non è questo. Non volevo dire questo. Sai una cosa, hai ragione. Devo mantenere la calma quando vengo attaccata da qualche stronza. Ok. Ehi, stupido, vieni di qua. Vuoi portarmi in un posto appartato? Perché non vieni a scoprirlo? Che strano. Che cosa convini, eh? Beh, sono tornato. Bravo. Ora ubbidisci. Matt. Sì? Grazie per avermi aiutata a trovare la borsa. So che a volte sono davvero pesante. Ehi, vale anche per me. Ehi, vale anche per me. Ah, bello. Ah, bello. E' bello essere qui stasera. Wow. Già. Ed è bello essere qui con te, mister muscolo. Ah, non sono tutto muscoli. Ho anche un po' di cervello. Il tuo cervello basta trovarmi attraente. Passiamo ai muscoli. L'hai mai fatto fuori? Fuori da cosa? Dalla mia auto. La tua auto è grande. Qui non è abbastanza grande? Eh, sai una cosa? Cerchiamo un punto migliore? Questo punto comincia per G? Ci sono un sacco di posti qui attorno. Ho già sistemato questo per noi. da gentil'uomo. Dai, guardiamoci attorno. Oh, guarda qua. Ehi. Ma che cavolo, eh? Non essere geloso. Perché mi hai portato qui? Mi sento un idiota. Non fare così. Io sono qui con te da adesso. L'idiota è Mike. Ok, forse idiota non è la parola giusta. E qual è? Fortunato? Mmm, così va meglio. Cosa c'è di così importante nella borsa? Sono le mie mutandine. Quelle di pizzo. Beh, a cosa ci servono? Non vuoi vedermi mentre le indosso? Tanto te le strappero di dosso. Forse voglio che tu le veda. La cosa mi metterà di buon umore. Andiamo a prenderle. Ecco qui, madame. Grazie. No, davvero notevole. Cos'è stato? Oh, non lo so. Forse è un animale. Non mi piace. Ehi. Che diavolo? Qualcuno ha fatto un pupazzo? Quello non c'era prima. È un messaggio. Wow. Sarà stato Chris? O Josh? Ci prendono in giro. Non è divertente, ragazzi. Non mi piace. Neanche a me. Oh! Matt! Cosa cazzo succede? Ma che diavolo è stato? Sai, non mi ne frega più niente delle mie mutande. Voglio solo andarmene da quelli. Concordo. Vorrei capire i tuoi sentimenti verso la gente che teme. Il sovrannaturale, fantasmi, spiriti e altre forze intangibili oltre il velo. Condividi questa paura. Allora, cosa provi per la gente che ha paura? Capisco, beh, Maika ha paura dell'isolamento. Ti dispiace per lui. Certo. È questo che traspare dalle tue scelte. E ora, indagliamo più a fondo sui tuoi sentimenti nei confronti degli altri. A che cosa tieni e cosa rispetti di te e degli altri. Che cosa, secondo te, è più importante in una persona? Lealtà o d'onestà? Ok, quindi diresti la verità. Anche se fosse spiacevole per un tuo amico. E cosa pensi di onestà e carità? La carità è sopravvalutata, immagino. Meglio essere veri con se stessi che aiutare gli altri? Ancora una volta temo che il tempo sia finito. Ne riparleremo presto. Era solo uno scherzo, Anna. Oggi è il primo anniversario dell'orribile tragedia di Anna e Beth Washington. Le gemelle misteriosamente scomparse. Io so che Anna e Beth sarebbero proprio felici di vederci ancora insieme. Di sapere che le pensiamo. Oh, ehi! Qualcuno sta diventando amichevole. Boom! Effetto farfalla. Scusa, hai detto qualcosa? No, forse il tuo troieggio era troppo... Basta! Mike, perché non vai a vedere il capanno, quello di cui ti ho parlato? Sì, sì, ok. Hai sentito? Ma che cavolo hai addosso? Ecco il nostro biglietto per il regno degli spiriti. Ma occhio a Josh, è un cospiratore. Se le cose stanno così... Jess? No! Jess? Allora, qui dice... Per comunicare con il mondo dello spirito, liberate la mente da ogni precozio. Per comunicare con il mondo dello spirito, liberate la mente, liberate la mente, liberate la mente, liberate la mente, liberate la mente. Mi nome è Jordan Fisher e I play the character Matthew, Matt for short. I'm Nicole Bloom, and I play Emily in the game. My name is Noah Fleiss. I am Galadriel Steinman, and I play Ashley. So, Until Dawn is the story of eight teenagers who revisit this cabin in the woods about a year later, after a really traumatic experience, where I've lost two of my sisters, so coming to kind of get some closure in that respect. One of the things that Larry does really well is make these multi-layered characters, and I think for just the story in general, it follows the quintessential horror film plot lines, but the characters are so unique in themselves, and I think that's very cool. Oh, I hope this was the right thing to do. What? You know, getting everyone together on the anniversary. I mean, Josh seemed really pumped about us all doing something, didn't he? Yeah, no, he definitely did. I haven't seen him so excited about something in forever. Good, good. Sam, Sam and I have a few things in common, such as being huge lovers of animals, and she's a huge animal lover. She's vegan, she, she is a pacifist. I'm not quite sure if I'm going to go as far as saying that I'm a pacifist, but she's spunky and cool. I know that she, I think, is made fun of a little bit by the rest of them who think that her morals and her beliefs in that area are a little ridiculous and they don't agree with them, but she doesn't care. It doesn't stop her from being herself, and that's something that I hope I have in common with her. You know, he definitely can be depressed at some times and a bit of a loner, but he takes some solace in one of his sister's friends, Sam, played by Hayden Penitere, and invites everybody back to the same house the next year to kind of find some closure. Jessica is, she has a whole lot of personality. She is definitely the sort of mean girl character that, you know, at school she, she knows she's pretty, she knows that boys like her, and she's going to use it to her advantage. He's got a big heart, and you can tell that that's very evident, especially how he treats his girlfriend, Emily, and, you know, he's kind of a meathead, but in the best way possible. She really knows what she wants, and she manages to, to get that from whomever it is, whether it be Matt or Mike, you know, she's really driven, and I can definitely relate to that. My, my character is, uh, Chris, and he is, uh, what society might consider the nerd of the group, um, and, and he kind of embraces it. Um, Ashley is, she's a little more serious than some of the other girls, um, she's definitely very intelligent and, and thoughtful. She kind of looks like the whole big picture of things. She's not quite as geeky as Chris, but they connect in a lot of ways. Mike is like a big guy on campus. He's, uh, the class president who has some charm and has, has a brain, and I don't know, people seem to like Mike. He gets away with a lot, though. He's, he can be kind of, kind of jerky. The fact that he, he really just kind of wants everyone to be happy, and he wants her, he's, he's a people pleaser. And, um, it's, I can, I can definitely attest to being, you know, that guy. I'm always the friend that wants everybody to be happy and wants everybody to be taken care of, and that's definitely Matt. But also, like, this character is just so fun. And I rarely get to play the bitch, and so it was really, it was really fun to do that. The spirit of things? Seriously, what's wrong with you? I'm just trying to lighten the mood, Em. Don't be like that. Like what? The way you're being. You always get like this. I just think this is just the coolest thing to be a part of. And, um, I just think it's going to take the world by storm. I really do. I think this genre is the wave of the future, and I think that, um, once people see the potential behind it, uh, of getting to interact with the drama that you're witnessing unfold, um, in such a realistic way, um, that this, this is how entertainment's going to be from now on. This is how entertainment's going to be.